107 chilometri e 900 metri, 80 in pianura e gli ultimi 30 inerpicati sulle pendici del Monte Sacro alla Patria. Ma in scena domenica, la 73esima edizione della Bassano Montegrappa, la corsa ciclistica riservata agli Elite Under 23, organizzata come tradizione del Veloce Club Bassano. Cosa significa per voi questa manifestazione? La manifestazione per il Veloce Club Bassano, visto che è dal 1930 che si organizza, è una cosa da far crescere, quest'anno puntiamo bene perché 200 iscritti è il massimo previsto. Gente, pubblico, specialmente in cima a grappa, speriamo di avere un buon risvolto. In 200 dunque saranno al Via da Piazza Libertà pronti a conquistare il successo in una corsa capace di vantare nel proprio albo d'oro nomi importanti come quelli di Barta, Ligotti, Simoni, Cunego e in tempi più recenti Fabio Aru. Chi corre questa gara, chi la vince oltretutto, sarà sicuramente in un futuro un corridore vero, un corridore per le grandi corse d'Italia e del mondo. In questa sua 73esima edizione la corsa ricorderà Riccardo Costenaro, dirigente giallo-rosso scomparso prematuramente nelle scorse settimane e renderà omaggio al centenario della Grande Guerra. Quest'anno casca con il centenario della Grande Guerra, per cui noi abbiamo anche voluto segnare questa gara con un gran premio volante a trattoria Cibara al centesimo chilometro con i cento anni dell'inizio della Grande Guerra.